L'Università di Salerno ha annunciato che le sedute di laurea dal 16 marzo al 3 aprile saranno effettuate solo ed esclusivamente online. L'Ateneo ha comunicato che in ottemperanza al decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo, salvo diverse ulteriori determinazioni delle autorità competenti, saranno svolte in condizioni di non presenza fisica dei candidati le sedute di laurea, con le modalità tecnico-operative che saranno comunicate entro pochi giorni ai diretti interessati.